questo giusto per completare questo concetto di arrei di puntatori a funzione allora vedete in questo esempio ho modificato questo progetto scrivendo questa istruzione qua double asterisco pf parentesi 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 tonda double uguale identica quadrato cubo quindi con questa definizione io nella prima posizione di questo arrei di puntatori a funzione ho scritto identica ma identica che cos'è? è il nome di una funzione che ho scritto io cioè l'indiritto di memoria dove comincia quella funzione la stessa cosa vale per quadrato, la stessa cosa vale per cubo all'atto della chiamata vedete io posso utilizzare direttamente la variabile scelta che ho usato nel menu che contiene i valori 1, 2, 3 per richiamare il puntatore chiaramente io sto passando calcola e gli passo pf di scelta meno 1 perché scelta meno 1 perché gli arrei vanno da 0 quindi se avessi passato scelta avrei passato il secondo elemento quindi se scelgo 1 chiamo scelta di 0 che è proprio la funzione identica se scelgo 2 chiamo scelta di 1 che è la funzione quadrato e così via quindi vedete in questo esempio io sto passando alla funzione calcola l'elemento uno dei valori di questo array di puntatori a funzione gli passo il primo elemento, il secondo elemento, il terzo elemento e quindi proviamo rapidamente a compilare quando eseguiamo il programma il comportamento è lo stesso quindi per esempio se scelgo 1 e metto il valore 4 avrò la funzione identica se scelgo 2 metto il valore 3 avrò il quadrato cioè la funzione 9 se scelgo 3 metto il valore 5 e avrò 125 che è questo valore elevato al cubo quindi riassumendo attraverso i puntatori a funzione io posso realizzare quello che si chiama il late binding cioè scelgo la funzione da eseguire a runtime posso organizzare i miei puntatori a funzione anche all'interno di un array così da poter utilizzare in ciclo, quindi nelle istruzioni di cicliche ma anche nelle istruzioni selettive di volta in volta quello che mi serve richiamando l'iesimo elemento di questa struttura di array di puntatori a funzione allora, sulla base di questi concetti come esercizio per l'uno di prossimo provate a realizzare la funzione integrale passandogli l'argomento cioè la funzione da integrare mediante un puntatore a funzione allora, adesso vorrei introdurvi un concetto anche se mi dispiace che veramente siamo 20 persone è scarso oggi ma che cosa è successo? come va? ieri esercitazione e c'era l'aula mezza piena oggi non ci sta nessuno perché, vabbè, comincio a introdurvi questo concetto legato alla ricorsione e poi continuiamo domani però il corso ha i suoi ritmi quindi non posso fermarvi allora una figura di programmazione fondamentale ormai presente in tutti i linguaggi di programmazione è il meccanismo legato alla ricorsione allora, se vi ricordate ho già introdotto questo concetto dicendo che si dice che ho una chiamata ricorsiva quando una funzione al suo interno richiama se stessa abbiamo visto che con il meccanismo dello stack il compilatore non ha problemi a fare questa cosa perché se una funzione richiama se stessa all'atto di questa chiamata viene generato nello stack un nuovo stack frame associato alla nuova chiamata e così via se io faccio n chiamate una dentro l'altra ogni funzione ha esattamente ogni chiamata ricorsiva ha esattamente il suo spazio di lavoro distinto perché si attiva un nuovo stack frame se io faccio tre chiamate ricorsive che la funzione f richiama se stessa e ancora una volta richiama se stessa avrò tre istanze attive della funzione f ognuna con il suo stack frame cioè con la sua struttura dati in memoria nello stack definita le funzioni ricorsive vengono chiamate e terminano nell'ordine inverso cioè la funzione f1 richiama se stessa la funzione f1 richiama ancora se stessa la funzione f1 richiamata termina il controllo termina la seconda chiamata quando questo termina il controllo ritorna alla prima chiamata quindi gli stack frame si attivano in memoria e vengono disattivati in ordine inverso all'ordine con il quale le funzioni sono state chiamate quando la funzione chiama direttamente se stessa abbiamo una ricorsione diretta quando una funzione chiama se stessa attraverso un'altra funzione abbiamo quello che si chiama una ricorsione indiretta ma il punto è a che cosa ci serve questo meccanismo? quindi in generale vediamo un esempio se voi guardate la funzione fattoriale io posso dire che questa funzione viene definita in modo implicitamente ricorsivo perché posso dire che n fattoriale lo potrei scrivere come n per n-1 fattoriale quindi la definizione del fattoriale di n è uguale a n per il fattoriale di n-1 quindi questa definizione è già implicitamente ricorsiva devo mettere un punto fermo però perché altrimenti questa cosa non si chiude e quindi dirò che questo è vero se n è maggiore o uguale di 1 per n uguale 0 il fattoriale di 0 è proprio 1 il fattoriale di un numero negativo non è definito quindi questa funzione fattoriale è definita nell'insieme dei numeri maggiore o uguale di 0 e il fattoriale è calcolato in questa maniera se io vi dicessi diamo una definizione di sequenza allora una sequenza può essere una sequenza vuota cioè una sequenza fatta da 0 elementi una sequenza può essere definita come un elemento seguito da una sequenza vi convince questa definizione? mi convince il fatto che per definire una sequenza vi servono tutti e due questi concetti perché io posso definire se io vi do la definizione generica una sequenza è una sequenza di interi è un valore intero seguito da una sequenza allora questa definizione le comprende tutte se vi dico solo questo ho definito da un punto di vista matematico in maniera corretta una sequenza ci manca il caso che non c'è niente e ci manca il caso che la sequenza sia fatta da un solo elemento allora io devo dire una sequenza nulla è una sequenza allora detto questo anche il caso di un elemento singolo va bene perché un elemento singolo rientra ancora nella definizione generale è un intero seguito da una sequenza quale sequenza? quella vuota allora questa definizione è ricorsiva perché io definisco una sequenza in termini di una sequenza stessa ma perché questa definizione ricorsiva funziona? perché a un certo punto c'è il concetto di terminazione cioè una sequenza vuota è una sequenza allora tutti i casi possibili rientrano in questa definizione ricorsiva beh, allora ragazzi noi abbiamo trattato lungamente le sequenze gli array li possiamo guardare come sequenze allora un array a sua volta può essere visto mediante una definizione ricorsiva il concetto è che se una struttura dati può essere definita in modo ricorsivo allora le tecniche ricorsive si applicano molto bene a questa struttura dati proverò a convincervi di questo con qualche esempio tra un attimo quindi diciamo che parlando di ricorsione io posso definire delle strutture dati direttamente in termini ricorsivi però facendo attenzione di indicare quello che si chiama un caso base il caso base è che 0 fattoriale non è definito in termini di 0-1 fattoriale 0 fattoriale è definito in modo decisivo vale 1 una sequenza che io definisco come un intero e un'altra sequenza è definita in modo ricorsivo però ci vuole poi un concetto finale la sequenza vuota è la sequenza fatta da 0 elementi punto non è che la sequenza vuota è fatta in termini di qualche altro concetto legato alla sequenza la sequenza vuota è una sequenza di 0 elementi punto è una definizione chiusa attraverso questa definizione e il concetto più generale che è una sequenza è un intero seguito da una sequenza posso dare una definizione di una sequenza di una lunghezza generica di elementi la ricorsione ci sono molti concetti che noi definiamo in maniera ricorsiva per esempio la storiella della filastrocca dei bambini c'era una volta un re seduto sul sofà che disse alla sua serva raccontami una storia e la serva cominciò c'era una volta un re seduto sul sofà questa definizione ci porta chiaramente al concetto di ricorsione è un po' come guardate il gioco degli specchi quando abbiamo uno specchio affacciato ad un altro specchio si riproduce all'infinito lì non vediamo la terminazione guardate per esempio questo concetto estratto dalla natura qui abbiamo un albero fatto da foglie ma ogni foglie ma ogni ramo è a sua volta fatto da foglie se guardiamo questa esattamente la stessa forma dell'altro e potremmo andare avanti quindi guardando ma questo capita molto spesso in natura le strutture si ripetono e la struttura che si ripete ha una forma esattamente identica a quella della struttura più grande quindi se noi esplodiamo ogni singolo elemento abbiamo esattamente la stessa forma che avevamo al passo precedente in forma più grande il principio dell'induzione qui entriamo su un campo che per voi è noto dal punto di vista matematico io posso dire che il principio di induzione mi dice che se P è una proprietà che vale per un certo K appartenente a N e se io affermo che se la proprietà P è vera per N questa è anche vera per ogni per N più 1 per ogni N maggiore uguale di K allora io posso dire che P vale per ogni N appartenente a N grande con N maggiore uguale di K ragazzi vi convince questa cosa che sta scritta? come faccio a verificare che è vera? voi dite di convince sì ma convincete anche me parlate voi a parole a convincere che questa roba è vera come me la dimostrate? si fissa una partenza si vede che il successivo applicando il fatto che era vera per i giorni di numero di partenza se è vera per il successivo applicando la base la cosiddetta a base di induzione però avremoci tutti naturali vi ha convinto? che cosa si dimostra per l'induzione? qual è la tesi? quando vedete un teorema teorema tesi ipotesi tesi dimostrazione quale sono le ipotesi la tesi e la dimostrazione questo è il punto chiave se mi capite bene questo mi capite anche la ricorsione come algoritmo l'ipotesi che deve valere comunque per un certo valore allora lui dice correttamente l'ipotesi è P di n è vera per un certo k appartenente a n questo lo do per ipotesi qual è la tesi? che vale per ogni anno per dimostrare quale che vale per ogni n che devo dimostrare? che vale per il successivo di k vuol dire che? no per il successivo di k qui dovete stare attenti mi riformulo la questione io voglio dimostrare che ho una certa proprietà in funzione di un parametro n è vera è vera per n uguale a k dove k è un valore fissato appartenente a n grande k è un valore fissato appartenente a n grande questo io lo do per ipotesi ora quello che io voglio dimostrare è che p di n è vera per ogni n maggiore o uguale di k questa dimostrazione la posso fare in vari modi la posso fare utilizzando tecniche algebriche basate sulla proprietà ma questa dimostrazione la posso fare anche per induzione se uso se scelgo di dimostrare questo teorema per induzione date questa ipotesi e questa tesi che cosa mi metto a dimostrare? mi metto a dimostrare che p di n è vera per ogni n maggiore di k e che cosa dimostro? esatto come vi è stato raccontato? che praticamente riguarda il modo in cui sono stati costretti naturali che se si dimostra il rumore per il successivo vale per ogni naturale allora lui sta dicendo una cosa se dimostro che se dimostro che che vale per il numero per la non lo dimostra in ipotesi ragazzi quello che io dimostro è se p di n è vera se questo implica che p di n più 1 è vera questo devo dimostrare allora se ho dimostrato questo non dimostro che p di n è vera per me è un'ipotesi è vera p di n ma dal fatto che è vera p di n riesco a dimostrare che è vera anche p di n più 1 questo è quello che io devo dimostrare nel teorema se ho dimostrato questo l'assunto da che cosa deriva prendo un n generico e dico p di n è vera non lo so però faccio l'ipotesi che è vera p di n meno 1 ipotesi ma se è vera p di n meno 1 per quello che sta scritto qua è vera anche p di n ma io non lo so se è vera p di n meno 1 allora faccio l'ipotesi che è vera p di n meno 2 se è vera p di n meno 2 per quello che sta scritto qua è vera p di n meno 1 ma se p di n meno 1 è vera per quello che sta scritto qua è vera pure p di n ma io non lo so se p di n meno 2 è vera ipotizzo che sia vera p di n meno 3 e ripeto la stessa catena ma andando all'indietro lo posso fare un certo numero di volte finché diminuendo n arriva proprio al valore k ma io so per definizione quindi andando all'indietro arriverò a dire p di k ma p di k è vera per ipotesi e allora se è vera p di k per questo ipotesi è vera p di k più 1 e p di k più 2 e ta 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 risalto la catena fino a dire che è vera p di n quindi il teorema generale dell'induzione io che cosa dimostro? non dimostro la proprietà devo dimostrare solo che ipotizzando vera p di n è vera anche p di n più 1 questa è la dimostrazione del teorema generale dell'induzione questo ci dice che io posso andare all'indietro fino al valore k quando ho trovato che questo è vero risalgo la catena per questa ipotesi ho dimostrato che il p di n è vero allora quando si fa una dimostrazione per induzione non si dimostra la proprietà si dimostra un'altra cosa per esempio facciamo un esempio voglio dimostrare la proprietà che per ogni n la sommatoria per i che va da 1 a n di i è pari proprio a n per n più 1 mezzi come la posso fare questa cosa? la posso fare in vari modi la posso fare in modo geometrico la posso fare in modo algembrico ho vari modi per dimostrare questa proprietà un modo per dimostrare che è vera questa proprietà è il modo per induzione allora come faccio a dimostrare che questa proprietà è vera con la tecnica dell'induzione matematica? faccio così faccio l'ipotesi che n che questa proprietà sia vera per un certo n allora se io ipotizzo che n valga 1 allora io qua posso contare e dico se n vale 1 la sommatoria per i che vada 1 a 1 di i è proprio 1 da quest'altra parte ho 1 per 2 fa 2 2 diviso 2 fa 1 allora questa proprietà è vera per n che vale 1 allora questa è l'ipotesi quella che sta scritta qua ho dimostrato che c'è un certo valore k k vale 1 che mi dice che questa proprietà è vera ora quello che devo dimostrare è che ipotizzando vera p di n ne discende che è vera anche p di n più 1 e questa è l'unica cosa che io dimostro nel mio teorema allora io dico p di n più 1 è uguale a tutta questa roba qua cioè è uguale a p di n più n più 1 ma se ipotizzo che p di n sia uguale proprio a questo cioè ipotizzo che la proprietà è vera per n questa roba la scrivo come n per n più 1 mezzi per ipotesi di veridicità della proprietà p di n più n più 1 ragazzi fate la portata al fattore comune fate due operazioni cinematiche e vedete che viene fuori n n più 1 che moltiplica n più 1 più 1 diviso 2 cioè è proprio la proprietà quando al posto di n ci scrivo n più 1 allora io vi ho dimostrato che se è vera questa è vera anche n più 1 dal teorema generale dell'induzione deriva che la proprietà è vera per ogni n maggiore di 1 un ulteriore esempio carino che posso far vedere è legato per esempio questo l'ho preso da wikipedia alla serie geometrica se io voglio dimostrare che la sommatoria per k che va da 0 n di xk è uguale riuscite a vedere poco eh è uguale a vediamo se lo posso migliorare un po' la sommatoria per k che va da 0 a n di x elevato a k questa è una serie geometrica è uguale a 1 meno x alla n più 1 fratto 1 meno x io questa cosa la posso dimostrare in vari modi un modo una prima dimostrazione che viene riportata qua su wikipedia è quella di moltiplicare entrambi i membri per 1 meno x se fate questa operazione moltiplicando tutta questa roba per 1 meno x quello moltiplicato per 1 mi dà esattamente questa espressione per meno x ottengo questa espressione dove è scritto meno x meno x quadro meno x quadro meno x alla n più 1 quindi i termini x meno x si evitano eseguite e quindi mi rimane proprio l'unico termine che mi rimane è 1 meno x alla n più 1 porto questa roba al denominatore e ho ottenuto questo ora questo è un modo di farlo per via geometrica come lo faccio a fare via induttiva? non si vede per n un po' è nulla si vede per una summa da 1 allora la dimostrazione per induzione la provo per n che vale 0 e quindi se è vera questa cosa per n che vale 0 sto facendo k che va da 0 a 0 di x alla 0 ma questo è 1 da questa parte se n vale 0 ho 1 meno x alla 1 diviso 1 meno x cioè 1 allora ho dimostrato che questa roba è vera per x che vale per n che vale 0 andiamo a verificare se supponendo la vera per un qualunque n maggiore di 0 io ne derivo che è vera anche per n più 1 e qua si fa lo stesso giochetto no? fate la sommatoria si può dimostrare banalmente che facendo questa sommatoria io che cosa scrivo scrivo 1 più x più x quadro più x sub più xn più xn più 1 la prima sommatoria è la proprietà per n quindi avrò questa espressione avrò che la sommatoria per k che va da 0 a n più 1 è uguale a 1 più x più x quadro più x alla n più x alla n più 1 questo primo pezzo qua è la sommatoria allora se ipotizzo che vera la condizione per n qua che cosa devo dire? che questo primo pezzo qua sarà uguale proprio a 1 più x alla n più 1 scusate 1 meno x alla n più 1 fratto 1 meno x più il termine ultimo che ci ho messo quindi più x alla n più 1 allora portiamo al fattore comune e qui abbiamo 1 più x alla n più 1 diviso 1 meno x e da questa parte ho x alla n più 1 che moltiplica 1 meno x quando faccio questo prodotto mi viene eseguendo il prodotto mi viene questo meno meno x alla n più 2 allora questo e questo questa è la meno questo e questo si evitano mi ripane 1 meno x alla n più 2 fratto 1 meno x cioè ho ritrovato la proprietà per il valore n più 1 allora ho dimostrato che se è vera per n è vera anche per n più 1 e quindi dal teorema generale dell'induzione dimostro che la proprietà è vera per ogni n maggiore di 0 allora questo modo di ragionare potrebbe essere utilizzato alla stessa maniera per risolvere degli algoritmi allora vorrei solo convincerti di questa cosa e poi domani continuiamo a ragionarci in pratica la ricorsione in programmazione è una tecnica che permette di sottodividere di suddividere un problema da risolvere in sottoproblemi simili a quello originale la potenza nasce dalla possibilità di definire un insieme infinito di oggetti mediante una regola finita allo stesso modo un insieme infinito di computazioni può essere descritto con un programma ricorsivo finito ragazzi qua non entro nella teoria sugli algoritmi perché qua si potrebbe potremmo dimostrare che utilizzando la tesi di Turing che un qualunque programma può essere diciamo se io ho una forma ricorsiva per un programma questa forma ammette certamente soluzioni ma non voglio entrare in questi aspetti teorici quello che voglio sottolineare è possiamo noi utilizzare questo concetto di ricorsione per risolvere degli algoritmi allora prima di entrare prima di darvi dei dettagli di natura più teorica vi faccio un esempio molto semplice allora se io vi dicessi proviamo a utilizzare questa tecnica ricorsiva per risolvere il problema della ricerca di elementi in un vettore abbiamo detto che il vettore rappresenta una sequenza di elementi questa sequenza di elementi può essere definita come abbiamo visto prima in modo ricorsivo allora la domanda che vi faccio è come posso formulare la soluzione del problema della ricerca in termini ricorsivi allora io potrei dire dire che un elemento è presente in un vettore significa definire qual è l'algoritmo che uso cioè devo andare a guardare scorro il vettore ogni elemento del vettore lo confronto con quello con il valore che sto cercando se lo trovo li fermo eccetera eccetera in termini ricorsivi io che cosa dovrei dire io posso dire che per rispondere alla domanda se un elemento è presente o no nel vettore io posso dire guarda se io sono in grado supponiamo che il mio vettore sia lungo n elementi se io sono in grado di rispondere alla domanda l'elemento che sto cercando è presente in un vettore lungo n-1 elementi supponiamo che io sappia rispondere a questa domanda allora se il mio elemento è presente nel vettore lungo n-1 elementi allora io posso dire sì è presente anche nel vettore n quindi qui il passo induttivo qual è? avendo la soluzione per il vettore lungo n-1 elementi io ho la soluzione anche per il vettore lungo n allora a me non interessa sapere come faccio a rispondere alla domanda se l'elemento c'è o non c'è io posso dire c'è un oracolo che mi dice guarda nel vettore lungo n-1 elementi l'elemento x ci sta o non ci sta questo mi risponde certamente in modo corretto se c'è mi dice sì se non c'è mi dice no allora come faccio a rispondere alla domanda l'elemento è presente nel vettore lungo n allora supponiamo che io mi scriva la funzione ricerca scrivo bool cerca gli passo int v parentesi parentesi gli passo l'estremo inferiore del mio vettore int estremo inferiore virgola int numero di elementi r riempimento e poi gli passo l'elemento x se la cercate allora quando io prendo ho questo vettore io posso fare una cosa molto semplice di questo vettore io questo vettore lo posso guardare come è costituito questo è l'estremo inferiore che all'inizio è proprio 0 allora io vado a guardare l'elemento perché questo vettore lo posso guardare come un elemento seguito da un vettore io vado a guardare il valore di questo elemento e dico se questo è proprio uguale a x allora questo è il caso base io so rispondere se il primo elemento è proprio uguale a x allora rispondo true la punto di ricerca ha dato valore vero ma se questo elemento non è uguale a x quindi se non sto nel caso base allora io devo necessariamente rispondere vai a guardare dico io non ti so rispondere però ti dico vai a guardare nel vettore che ha n meno 1 elementi cioè sfrutto l'ipotesi che come nella dimostrazione per induzione ipotizzo vero il caso n e dimostro che è vero il caso n più 1 poi ipotizzo di saper risolvere il problema con n meno 1 elementi e ti dimostro che se lo so risolvere con n meno 1 lo so risolvere anche con n quindi io qua che cosa scriverò? scriverò se x è uguale uguale a v di e con i allora scrivo return true e se devo fare il passo induttivo cioè devo sfruttare il fatto che un oracolo mi dice se questa proprietà è vera per un vettore che ha n meno 1 elementi e allora qua che cosa faccio? dirò allora innanzitutto questo è il primo caso poi dirò s s retanna cerca v e con i più 1 r meno 1 x cioè io dico se io so risolvere il problema del vettore con n meno 1 elementi so risolvere il problema anche con n elementi e in particolare la mia soluzione è proprio la risposta della chiamata ricorsiva alla funzione alla quale ho passato n meno 1 elementi allora ci manca un ulteriore caso che qua io so che trovo l'elemento se il mio vettore se l'elemento è in testa al vettore però ho anche il caso di un vettore che ha 0 elementi allora se if r uguale uguale 0 cioè se il rientimento è 0 return force in un vettore nullo l'elemento non ce lo trovo mai è il se if x allora se non è questo il caso vuol dire che un elemento ancora c'è e quindi e con i è proprio il primo elemento altrimenti se x è uguale proprio al primo return true altrimenti ti do come risultato l'esito della ricerca sul vettore residuo il programma è finito in questo programma ho usato una tecnica ho usato l'approccio ricorsivo mi convince che questo funziona? che ne dite? allora l'ipotesi che faccio è che questa funzione sia in grado di dare una risposta sempre corretta io così come per il teorema dell'induzione non dimostro che la proprietà è vera per quel valore di n ma ipotizzo che sia vera per n-1 e dal fatto che se è vera per n-1 è vera anche per n io ne ricavo l'assunto allora qui è come se stessi dicendo guarda ma scritto così scritto così se è vera per n-1 cioè se questa funzione di ricerca mi restituisce true se l'elemento l'ha trovato e false se l'elemento non l'ha trovato sulla base di questa risposta io posso rispondere se l'elemento c'è anche nel vettore lungo n certamente sì perché se c'è mi dice sì e allora se c'è nel vettore lungo n-1 c'è anche nel vettore lungo n se non c'è nel vettore lungo n-1 allora non c'è proprio perché non l'ho trovato in testa perché il vettore è l'elemento seguito dall'altro vettore se c'è in testa rispondo che c'è ma se non c'è in testa allora devo solo chiedermi c'è nella coda del vettore se c'è allora c'è anche nel vettore se non c'è non c'è neanche nel vettore e quindi io qua che cosa dico se il vettore è vuoto l'elemento non c'è se il vettore non è vuoto guardo il primo elemento è uguale a x allora l'ho trovato se il primo elemento è diverso lo vado a cercare nel vettore residuo allora questa tecnica è una tecnica è la tecnica di ricerca mediante un algoritmo ricorsivo io non vado a capire come devo fare per me quando sto cercando l'elemento in un vettore o è il primo o deve stare nella parte residua e allora io faccio una chiamata ricorsiva ma questa roba perché funziona? supponiamo che l'elemento io lo trovo in terza posizione allora guardo il primo e non c'è il vettore è vuoto no è il primo elemento no richiamo la funzione cerca passandogli quando riparta la funzione cerca che cosa fa? fa a guardare il primo elemento il primo elemento è quello che si trova ora in e con i più 1 guarda il primo è no allora lo richiama con e con i che vale 2 è il primo no lo richiama con e con i che vale 3 è uguale sì allora questa finisce e mi restituisce true vado alla chiamata di ricorsiva precedente e mi restituisce true torno alla prima chiamata e mi restituisce true restituisce true e tutto il programma è finito allora quello che vi farò bene domani perché adesso è tardi facciamo la sequenza di chiamate ricorsive in pratica ogni quale volta io richiamo la ricorsione si attiva un'istanza ricorsiva col suo stack fregno messo nello stack e io vado avanti con le chiamate ricorsive ma prima o poi una di queste chiamate termina perché? perché ogni volta io divido il riempimento prima o poi questo riempimento arriva al zero e se non vedete riduco il riempimento e aumento di conseguenza l'indice del primo andando avanti in questo processo prima o poi arrivo alla condizione r uguale zero o arrivo alla condizione che l'elemento lo trovi in testa se non ci arrivo mai vuol dire che l'elemento non c'è quindi se il vettore ha n elementi dopo n chiamate ricorsive io arriverò alla condizione r uguale zero restituisco false e false si propaga per tutte le chiamate ricorsive fino a completare il mio programma allora domani faremo un confronto tra tecnica iterativa tecnica ricorsiva e capiremo qual è la potenza di questa soluzione ragazzi qui alla fine avete capito che non si vede il ciclo ma dove sta il ciclo nelle chiamate ricorsive cioè invece di avere il while io ho tanti stack frame attivati nello stack fino a quando non termina e ritorno indietro risalendo la catena è più efficiente o meno efficiente di quello iterativo domani faremo delle considerazioni e capiremo qual è la potenza di questa tecnica e soprattutto qual è il costo computazionale vedrete che esistono alcuni algoritmi che possono essere formulati solo in termini ricorsivi e quindi questo rappresenta uno strumento di programmazione molto potente e efficace ma dovete stare attenti perché occupa un sacco di memoria perché a ogni chiamata ricorsiva c'è un pezzo di stack che viene riservato per quella funzione può appertare grazie Grazie a tutti